Francesca Marconi Bergamo ha giocato sicuramente un'ottima partita ha spinto davvero in ogni fondamentale noi non siamo riusciti a reagire non abbiamo avuto nessun tipo di reazione questo è stato un rammarico più grande perché almeno potevamo fare meglio poteva anche essere una sconfitta ma doveva essere giocata meglio rammarico più grande forse alla fine del secondo set quando avete anche avuto due set point e non siete riusciti a sfruttarli? Sì, oggi non ha funzionato niente nel senso che purtroppo abbiamo avuto davanti una squadra che ci ha fatto penare e noi abbiamo sofferto quella stanchezza anche mentale e non so cosa dire sono un po' delusa e mi dispiace al di là del risultato per come ci siamo espressi in campo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti